Oggi in Consiglio Comunale si parlava di IRPEF, naturalmente l'argomento del giorno, quindi di bilancio e è nata una sorta di polemica in merito alla delega della Spending Review, una specie di razionalizzazione delle risorse che metterebbe in campo il Sindaco Brucchi, dati i magri tempi, i tempi di crisi che stiamo vivendo, quindi c'è bisogno di razionalizzare le risorse. Il Sindaco ha istituito questa nuova delega, questa nuova delega non si sapeva a chi doveva essere assegnata Nell'intervento del Consigliere Comunale di Dalmazio è stato chiesto di assegnarla, di tenerla il Sindaco direttamente lui Sulla scorta di questo, sulla scorta di ciò che è accaduto per l'IRPEF, sia in Commissione sia oggi in Consiglio cioè in Commissione c'è stata una chiusura da parte dell'amministrazione nel poter modificare la proposta che doveva essere portata in Consiglio cioè lo 08 fisso per tutti. Oggi arriviamo in Consiglio e troviamo un'esenzione fino a 10.000 euro con una proposta, con un emendamento con primo firmatario il Sindaco che oltretutto rappresenta l'amministrazione e quindi neanche i consiglieri maggioranza ci hanno già abituato a questo tipo di attività, però voglio dire oggi è veramente assurdo che la relazione l'abbia fatta direttamente il Sindaco, quindi abbiamo supposto che ci fosse un'operazione dietro per esautorare l'assessore alle finanze. Le proposte che vengono portate, vengono modificate addirittura con emendamenti del Sindaco e non con proposta direttamente dell'assessore addirittura lo spending review che dovrebbe essere una rivisitazione delle spese non viene assegnata all'assessore le finanze, quindi pensiamo che di fatto ci possa essere in atto un meccanismo per esautorare questo vicesindaco che oltretutto è una persona capace e competente. Una sorta di commissariamento come ha detto? Noi l'abbiamo definito così, ce ne dispiace, fermo restando che indipendentemente dalle capacità dell'assessore non è che la sua azione la stessimo credendo, però nello stesso tempo non possiamo fare altro che politicamente che rilevare un commissariamento dell'assessore delle finanze.